peggie 18 a gabbro vieni qua e devo allontanarmi 5 minuti come funziona? va vicino e viene fuori start fishing no puoi tenere l'accetta basta che lo prendi in mano ah ok che senso? guarda che ti abbandono qui ti viene se tu clicchi sopra se tu punti il mare viene fuori check the bait e ti dici se c'è movimento o meno arrivo a dubitare sei sicuro che qua ci sia pesce? beh hai detto che c'era movimento arriva la pappa capro molto bene tu in my yard qui si sono Maia la farsata mica c'è lo zombie nell'acqua c'è si può ed è qua vicino a pigna no cazzo lo stai combinando eh c'è Pinea che è scomparso scomparso in che senso? vedo sanguinare ok ah no quello li è finito in acqua no è finito gli è finito lo zombie addosso gli è finito lo zombie addosso l'ha spinto giù in acqua e non posso spingere fuori adesso muore ma lo sta manando? no l'ho ucciso lo zombie Pinea ma Pinea ma sta galleggiando o è sotto acqua? no no sotto acqua cazzo sai quando cascano i zombie no? è morto che? pigna com'è morto? è morto affogato e tra un po' anch'io che lo sto ancora bendando oddio caro è morto? grazie mille grazie mille